Come scegliere il software di produzione giusto per te? Abbiamo già affrontato l'argomento in uno dei primi video. L'intenzione oggi è di riapprofondire e riaggiornare alcuni contenuti, ma anche di fare un passo indietro, distinguendo tra due tipi di software di produzione, quelli più a carattere analogico, tra virgolette, e quelli invece nati fin da subito con un concetto digitale. Partiamo dal presupposto che non è il software che fa la differenza, ma quanto, come lo utilizzi, cosa ci fai, e come riesci a sfruttarlo per quelle che sono le tue esigenze. Quindi si può fare tutto con qualsiasi software. Però è vero che ogni tipo di programma ha le sue caratteristiche e risulta più indicato per delle cose, degli aspetti, dei tipi di musica rispetto agli altri. Ora, parlare di software digitale a carattere analogico sembra un po' un ossimoro, ma in realtà, se pensiamo a come sono nati i software di produzione, altro non erano che una riproduzione di ciò che avveniva in studio con le macchine su un computer. Quindi, una schermata con un banco per mixare con tutti i vari canali, l'equalizzazione verticale e i canali per vedere gli effetti, e una schermata di stesura per l'arrangiamento di questa categoria. Fanno parte dei programmi come Logic, Cubase o Pro Tools, che saranno esaminati singolarmente in un video dedicato. Questo schema fisso è rimasto ancora oggi, però ci sono alcuni software invece nati con un'impostazione abbastanza diversa, quindi nati con una mentalità già digitale. E mi riferisco a Fruit Loops, Ableton e Studio One, tra i tanti. Cosa significa? Non solo c'è la classica struttura del mixer, dell'arrangiamento, ma ci sono delle funzionalità particolari che sfruttano il fatto di essere in un ambiente digitale, quindi di non dover far passare il suono da una parte all'altra, quindi attraverso una macchina, eccetera. Fruit Loops, ad esempio, ha un'interfaccia che è puramente digitale, tutti quei pulsantini che si accendono, i colori, eccetera. Non è una replica di un banco particolare. E lo stesso si può dire di Ableton, che ha questa impostazione caratteristica delle clip, che è concepita unicamente per essere sfruttata da un computer. Poi entrambi i programmi si interfacciano anche con degli strumenti analogici o comunque esterni. Non significa programma digitale, vuol dire fare tutto esclusivamente all'interno del computer. L'interazione in the box e out of the box è una caratteristica comune a tutti i programmi. L'approccio più digitale risulta più dinamico, più interattivo, più facile e intuitivo, soprattutto per chi inizia adesso, che si appassiona alla programmazione della musica, in una fase in cui tutto è digitale, non gli consiglierei di iniziare da un banco analogico o comunque non c'è bisogno che passi da lì, dallo scoprire come funzionava vent'anni fa. Prendi il programmino, inizi a mettere su i campioni, gli effetti, i loop, gli strumenti virtuali, i plug-in, eccetera, eccetera, e poi sviluppi le tue cose. La gran parte di quelli che usano i programmi a carattere analogico sono quelli che o vengono dallo studio analogico o semplicemente utilizzano quel programma da sempre, ci si sono affezionati, continuano ad aggiornarlo per poterlo continuare a utilizzare con le macchine sempre più nuove e va bene così, non c'è niente di male in questo. Non è sbagliato anche oggi partire da Pro Tools, anzi. Però è semplicemente un approccio completamente diverso. Andiamo nel video successivo a riprendere tutti i vari software a fare una carrellata rapida di quelli che sono i software principali ma intanto chiederei di farmi sapere cosa ne pensi nei commenti e continuo a seguirmi su Essere DJ Orton. Grazie per la visione!